Attività ludiche sportive, momenti di confronto e gastronomia, anche quest'anno al Lido di Fano si svolgerà la Festa dei Popoli. Da chi è organizzata e qual è il programma? La Festa dei Popoli che è giunta alla quarta edizione quest'anno è organizzata dalla Diocese attraverso l'ufficio pastorale del Migrantes. Noi inizieremo sabato alle ore 15.30, sabato 25 maggio, la tenso struttura del Lido con l'apertura degli stand delle varie comunità etniche e inoltre saranno particolarmente presenti, perché questo è il tema che abbiamo voluto trattare quest'anno, quello dei minori stranieri non accompagnati, con alcune attività di conoscenza attraverso l'attività dell'intervista doppia dal vivo, con alcuni dei ragazzi che sono ospiti nelle tre comunità del nostro territorio diocesano. Successivamente alle 16.30 avremo la premiazione dei due tornei che abbiamo fatto sabato scorso, il 18, il torneo di bicivolle e di calcetto e il secondo Memorial Barbara Zenobi. E poi alle 17.30, diciamo la parte più riflessiva, con il saluto introduttivo del nostro Vescovo Andrea Andreozzi, poi alle 17.30 abbiamo la restituzione di un laboratorio che ragazzi di diverse etnie, italiani e nonne, hanno realizzato l'11 maggio. Il laboratorio è stato realizzato a cura della regista Laura Fatini ed è ispirato al libro di Fabio Geda, nel mare ci sono i coccodrilli. Alle 18.00 abbiamo alcune testimonianze che ci faranno riflettere sul tema di quest'anno. Si proseguirà con la cena etnica? Sì, poi con la cena etnica e poi canti e danze a cura delle comunità etniche che come ogni anno si impegnano tanto e per cui andremo dai canti ucraini alle danze albanesi e anche a diverse manifestazioni artistiche di altri paesi, paesi africani, Nord Africa eccetera. Nel caso di pioggia verrà rinviata la manifestazione? No, noi nel manifesto abbiamo scritto che in caso di forte pioggia andremo al centro pastorale di via Roma 118 perché siamo sotto la tensostruttura e quindi se dovesse esserci una pioggiorellina riusciamo ugualmente a fare la festa.